Dopo anni di chiusura, a seguito di un fallimento e numerosi intoppi burocratici, Edelandia si prepara a riaprire alla città nei prossimi mesi. Ad annunciarlo in una conferenza stampa con il sindaco Luigi De Magistris, il soprintendente Luciano Garella e di rappresentanti di Mostra d'Oltremare, è l'amministratore unico della New Edelandia Gianluca Vorzillo, da agosto scorso alla guida della società che si occupa della gestione dell'area. Compatibilmente con le autorizzazioni ci manca solo il permesso a costruire da parte della continua e speriamo che ce lo dà. A giorni, prenderemo 60 giorni per i lavori operativi. Abbiamo già tutto il materiale acquistato, quindi dovremmo farcela, se lasciamo conti alla mano, per la prima decada di aprile. Tra gli obiettivi della società, quello di restituire ai napoletani quanto prima il grande parco divertimenti del quartiere fuori grotta e rimettere in moto un indotto economico ed occupazionale che assicuri tutti i posti di lavoro e l'assunzione di nuove figure professionali. Sono stati assunti 25 dipendenti, ne saranno assunti tutti i 53 all'apertura, più l'indotto ovviamente di Edelandia porterà quasi a 200 unità. Ma questo è solo l'inizio. Se pensiamo alla potenza che ha Edelandia insieme allo zoo vicino, insieme all'ippodromo, insieme all'ex arenato, insieme a Bagnoli, rispetto alla mostra oltremare, rispetto agli interventi di riqualificazione, rispetto alla metropolitana che fra circa un anno, forse meno, collegherà il centro di Napoli con fuori grotta. Quindi parliamo di strategie della città davvero importanti. Il progetto per un investimento di circa 8 milioni di euro prevede la riqualificazione e installazione di giostre e attrazioni. Saranno complessivamente 38 tra quelle nuove restaurate, 15 punti ristoro, un pala Eden con 600 posti a sedere ed aree commerciali e di intrattenimento. Ci sarà una Edelandia storica, come la conoscete ovviamente, perché non possiamo rifiutare le attrazioni che hanno fatto ovviamente la storia, tipo i tronchi, ovviamente tutti i visitati, la vecchia America, il maniero, il trenino. Ci saranno nuove attrazioni adrenaliniche sia per adulti che per bambini. Ai lavori dell'Edelandia seguiranno quelli dell'ex cinodromo, aria adiacente di circa 16 mila metri quadrati, che con attività ludiche e attrazioni per bambini sarà un ampliamento del parco giochi. Ormai stiamo alla volata finale, un lavoro di squadra davvero imponente, pubblico, privato, il comune che ha fatto un grande lavoro, i lavoratori che avranno la loro stabilità, ulteriori posti di lavoro, tradizione e innovazione, un imprenditore serio che ha investito, la sovrintendenza che ha svolto un grande ruolo, soprattutto devo dire che il comune di Napoli ha voluto fortemente questo giorno. Quindi non ci resta che aspettare, il lavoro sarà fortissimo in questi due mesi, ormai ci siamo, gli organizzatori e l'impresa hanno annunciato pure il periodo preciso, insomma non ce la dovremmo fare, siamo davvero, dovrebbe essere tra il 10 e il 15 aprile, siamo molto soddisfatti perché effettivamente in pochissimi mesi, quando è cambiata la compagine imprenditoriale c'è stato il salto di qualità.